Come commenta le dimissioni di Giorgio Napolitano? Era ora, era ora perché erano settimane, ormai forse mesi, che stavamo aspettando queste dimissioni da parte del Presidente della Repubblica. Era ora perché l'Italia in questo momento ha bisogno di un Presidente della Repubblica che abbia voglia di fare Presidente della Repubblica, che non deleghi tutto al Presidente del Consiglio. Era ora perché Napolitano era un Presidente a tempo e lo sapevamo benissimo tutti. Era ora perché le condizioni che avevano portato le elezioni di Giorgio Napolitano con un grandissimo consenso all'interno delle aule parlamentari in questo momento erano venute meno. E quindi penso che il fatto di ritornare al voto per quanto riguarda il Presidente della Repubblica fosse un atto dovuto nei confronti dell'Italia e degli italiani. L'auspicio è che il nuovo Presidente della Repubblica decida di mandarci a votare il prima possibile perché questo Presidente del Consiglio, cioè Renzi, è un Presidente del Consiglio che non è stato eletto da nessuno, è un Presidente del Consiglio che sta facendo danni ed è un Presidente del Consiglio che a nostro parere non merita di rimanere in quel posto.